La partita è iniziata bene. Sì, abbiamo iniziato bene, abbiamo anche cambiato modo. Oggi abbiamo giunto un appunto e i ragazzi hanno risposto bene. Anche se, come si denotano le cose positive, ci sono anche quelle negative. Il fatto che nel secondo tempo siamo entrati come se avessimo già vinto sul risultato di 2-0 e questo è un atteggiamento che è una squadra che vuole lottare con gli altri pretendenti per i primi posti, per far meglio soprattutto dell'anno scorso, non può scendere in campo con questa superficialità. Onore anche alla scillese perché ha dato tutto quello che aveva. Ho visto dei ragazzi anche in condizioni fisiche non ottimali, ma a livello di grinta e di voglia avrebbero vinto loro. Sì, in effetti sul 2-0 la San Miscella è come se avesse effettivamente, come dite voi, mollato un attimino pensando di aver già vinto la partita, ma si era ancora a metà del primo tempo. Il portiere è ancora a metà del primo tempo e il nostro portiere è stato anche impegnato. Quindi, ripeto, questa è una crescita che deve avvenire. Forse oggi contro una scillese più in forma potrebbe nascere un risultato di diversity. Grazie. Grazie.